e buongiorno e bentrovati ad un'altra puntata di tournament review come ogni settimana andiamo a esplorare il panorama torneistico mondiale e andiamo a vedere le liste imbattute del fine settimana prima di andare a vedere ovviamente le nostre liste solita richiesta mi raccomando a voi non costa niente per noi è importantissimo ma anche per verificare come sta andando il nostro canale come sta andando per ente l'impegno che mettiamo per portarvi contenuti sempre nuovi e che come aveva avvisato subirà determinati cambiamenti incentivi nel breve periodo ci sono molte novità che stiamo lavorando per portarvi e vi assicuro che il lavoro non è poco oltre ovviamente il lavoro che tutti i giorni dobbiamo fare per garantirci un pasto e le miniature perché alla fine con quello si va avanti basta e miniature detto questo quindi vi ricordo di lasciare un like sui nostri canali social e mi raccomando seguiteci lasciate un follow sotto il nostro canale di youtube dove escono i tournament review e usciranno successivamente vari altri video andiamo quindi partiamo dal primo torneo texas open 2024 torneo da 106 giocatori ci sono due liste imbattute la prima cioè quella che arrivata seconda è una lista necron che andiamo a vedere hypercrypte legion hypercrypte legion che praticamente ormai è l'unica distaccamento che sta vedendo che sta vedendo il campo per quanto riguarda i necron dopo i vari nerf alla canoptec andiamo a vedere cronomancer e plasmancer i due eroi due da 20 di necron warrior una hypercrypte un po' diversa da quella che si vede normalmente due da 5 deathmark questi sono più nel nel mood del distaccamento un reanimator un ragno perché sempre si due archi apocalisse e due monoliti ok c'è c'è il c'è il gambit in questa lista perché di solito infinemmo tutte le liste di hypercrypte abbiamo visto giocavano katan vari unità piccole pronte a fare seconda qua due monoliti due monoliti se non hai l'anticarro non gli dici niente e infatti questa lista si è classificata seconda vincendo comunque tutte le partite primo posto invece per dark angel dark angel con gladius e gioca apotecario biologis azrael e judiciar l'apotecario quindi avrà sicuramente o una di aggressor o una di radicator andiamo a vedere quale ci sta due impulsor perché si trasporti sempre comodi due di assolto intercessor col jump pack ormai sono la base di qualsiasi lista marine due di dead wing knight onestissime per fare punti comunque molto resistenti ecco la classica di radicator che va con l'apotecario una due di inner circle companion in cui ci sarà una azrael e una il judiciar sicuramente unità da 3 ring knight secondarie unità di disturbo un repulsor e due di scout che ci metti nel repulsor se c'hai una di radicator oppure che ci metti negli impulsor negli impulsor ci vai a mettere allora ci vai a mettere giustamente gli inner circle companion nel repulsor ci va le radicator con l'apotecario giustamente sono gravis più spazio questa è la lista d'archangels che si è portata a casa il torneo poi andiamo ecdc present big sky open torneo da 47 persone 5 turni blood angel secondo posto ricordiamo che blood angel come da live di ieri sera hanno ricevuto un codex nuovo non sono ancora giocabili però la base cambierà della lista sonzo sanguinius classico capitano le martes gli utenanti con commiglione per le secondarie due sanguini repulsori col jump pack che ci hanno salutato poi una squadra di intercessor una, due, tre di assolto intercessor col jump pack un'unità di head company da 10 con le martes una di sanguinary guard da 10 addio questo è il capitano e apotecario sicuramente due, tre di scout squad no, due di vanguard veteran le due di vanguard veteran avranno i due apotecari quindi comunque questa è una lista che c'ha 10 head company, 10 sanguinary guard 20 vanguard veteran va avanti ti picchia classica blood angel per il momento adeptas ororitas che invece porta la classica bringer of flame anche qua distaccamento vincente del codex canones dialogus morvenval triunfo poi squadra 5 sorelle classica chissà se c'è un immolator pure per loro ci sta un rhino due immolator vediamo se ci stanno due di dominion due castigator ci sono sicura la paragon con morvenval due penitent engine così una, due di retributor una di novizie e una galledus quindi le due di retributor negli immolator mo chissà se la novizia o la squadra di sorelle nel rhino non vedo neanche ormai più il bisogno di questo rhino in questo caso è un po' furi o ci mette magari le due di dei due di retributor e novizie e e sorelle nei due immolator per splittarle boh no la novizia non serve splittarla comunque è una lista un po' strana cioè almeno il rhino ce lo vedo strano e poi vabbè c'è la galledus che chiude chiude la lista come al solito dopo l'ACDC andiamo al north star open north star open torneo da 66 giocatori che vede due imbattute una con un parigio grey knight distaccamento unico distaccamento che hanno con due gran master in dread knight draigo abbastanza lineare una squadra da 5 terminator due strike squad semplici una due di inceptor tre dread knight callidus una lista abbastanza abbastanza standard ormai per quello che si vede primo posto invece chaos space marine che porta renegade slider cypher due tre dark commune e lucius quindi come vediamo prima emperor children una due di cultisti due tre quattro cinque di noise marine quindi lista proprio strana 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 tre rhino una due tre di accursed cultist due predator questa è una lista chaos che praticamente basa tutto tutto sulla sulla quantità c'è una quantità di modelli infinita 20 cultisti 10 15 15 25 marine altri 16 16 16 16 cultisti li ripoppa difficile da buttare giù andiamo a vedere al rat con 2024 invece con 76 giocatori due imbattuti tirannidi che porta invece un fleet con death lipper hive tyrant e neuro tyrant abbastanza standard questa qua due di cargolle 30 ormacant 10 10 10 10 biovra esocrino esocrino 10 gestealer lictor lictor maleseptor maleseptor zoantrovi zoantrovi giustamente con il neuro tyrant dentro classica anche questa è una lista che sta vedendo un po' più più spesso del solito altro vincitore altro chaos space marine questo gioca chaos cult direttamente con cypher 2 3 dark immune 1 2 3 cultist mob 1 2 3 4 5 squadre di guardie traditrici 1 2 3 di accursed cultisti 2 vindicator un forge fiend e 2 dinargelini questa è proprio una cultist cioè una una chaos cult solo 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 piena di cultisti e giustamente ben kogburg ha nominato come la sovista come l'ottavo peggiore distaccato nel codex di art of war chi ha chiesto questo di vanguard tactics ogni codex ha un distaccamento meme il codex chaos space marine non ha non ha eccezioni e lui lui non lo sa ed è andato a vincere un torneo con 5 vittorie su 5 giustamente ultimo torneo il ccbb 40k single vede un astra militarium trionfare con 6 6 vittorie su 6 astra militarium distaccamento unico per ora come al solito e classica di spettine di count questa non manca mai lord solar leontus anche lui è fisso poi rispetto al che abbiamo visto l'ottima scorsa abbiamo 3 di tempestus command squad non una non due ben 3 una platon commander e ursula grid una sola squadra di fanteria chimera e 2 taurox poi abbiamo 2 squadre da 10 cavallini un earth shaker quindi un cannone scuotiterra una 2 di kaserkin da 10 un rogaldorn 2 scout sentinels singoli e 3 di shion da 5 quindi è una lista incentrata molto 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 di più sulle truppe speciali rispetto a quella che abbiamo visto l'ottima scorsa che comunque invece gioavano molte più battle e molto più grosse e il signore si è portato a casa a tornero in 106 partite su 6 quindi comunque veramente non male che dire è un meta vario è un meta che come vedete ogni settimana ci riserva delle sorprese detto questo noi ci aggiorniamo come al solito settimana prossima per un'altra puntata di tournament review e inoltre mano a mano inizieremo a spoilerarvi quali sono le novità che porteremo per voi sui nostri canali grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti